I dati di Confartigianato sull'andamento nel bienio 22 e 23 nel Lazio confermano che il momento che stiamo attraversando è critico, 670 aziende sparite nella regione, l'albo delle imprese artigiane scende dalle oltre 100.000 iscrizioni 2012 alle circa 90.000 attuali con una perdita dunque di più di 10.000 unità. Ma non in tutti i settori c'è la stessa situazione, per esempio si registra una crescita nell'edilizia, i servizi per la cura della persona, la produzione di software, crollano invece le imprese manifatturiere dalla lavorazione del legno a quella del ferro fino a quella delle materie plastiche. Andando a esaminare un po' più nel dettaglio si vede come l'edilizia nell'ultimo anno, grazie anche ai bonus, non conosca crisi. In soli 12 mesi le aziende del settore sono cresciute di 742 unità, ma nel 2022 l'aumento era stato di 1.212, mentre i servizi per la cura della persona, dai parrucchieri all'estetista e perfino i tatuatori, oggi contano 331 imprese in più, contro l'incremento di 243 del 2022.